I Ciccans della città di Servigliano. Essi non hanno bisogno di molte presentazioni, in quanto ormai sono famosi dal 1989. È proprio in questo anno che si è costituita l'Accademia dei Giovani Alfieri che hanno ereditato le esperienze individuali dei cittadini di Servigliano, svolte all'interno dei rioni in cui è diviso il paese. All'interno dell'Accademia i giovani apprendono l'arte e le tecniche del maneggio della bandiera. Il GAMS ha allestito giochi coreografici di grande successo spettacolare, proposti in occasione di importanti appuntamenti internazionali. Il programma di oggi che li vede coinvolti prevede, oltre alla parata, l'esibizione del gruppo Nel sogno di un cavaliere errante ispirato dal Don Quixote, che si svolgerà qui alle ore 20.30. La sfilata verrà aperta dal gruppo folcloristico La Cucciolata. Esso nasce all'insegna del recupero delle nostre tradizioni locali, delle tipicità gastronomiche e dei curiosi personaggi che hanno caratterizzato la vita di questo paese. La protagonista è indubbiamente lei, la timida ma irresistibile Cucciola di Montagna. Essa si lascia catturare volentieri, ogni volta al momento giusto, con sguardi e profumi seducenti, sfidando qualsiasi pregiudizio. Scende lungo le pendici delle alte vette dei nostri sibillini e striscia lungo le anguste vie fortinesi. Al suo passaggio, magicamente, si rinnovano antiche passioni e si intrecciano giovani amori. Sui suoni magici di antichi strumenti e allegre melodie, lei magicamente danza e le relazioni tra la nostra gente rinascono come per incanto, più forti che mai. Allora, adesso aspettiamo insieme l'arrivo della lenta Cucciola e dello Zaravaglio, accompagnati dai ragazzi fortinesi della Cucciolata, nonché dagli amici di Servigliano. Vi ricordiamo inoltre l'appuntamento alle ore 21.30 per il concerto di Calidra, cover ufficiale di Laura Pasini. Ed ora, buon proseguimento di serata.